Buone notizie arrivano dal monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia, dimiscono ancora l'incidenza settimanale dei contagi e l'indice di trasmissibilità RT nell'ultima rilevazione e l'incidenza è pari a 1.362 ogni 100.000 abitanti. Nel periodo che va dal 12 gennaio al 25 l'RT medio calcolato sui sintomatici è stato pari allo 0,93. Sono solo la provincia di Bolzano e le Marche a registrare un'incidenza superiori ai 2.000 casi, oltre 100.000 abitanti. Ancora le fasce d'età più giovani, 0,9 anni, 10, 19 anni, sono quelle caratterizzate da un livello di circolazione del virus più alto, è il commento del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro. Per quanto riguarda i pazienti, Covid scende il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e reparti area non critica. Intensive 14,8%, nel reparti ordinari il tasso di occupazione 29,5% contro il 30,4% della settimana prima. La maggior occupazione dei letti nelle intensive si registra nelle Marche, che da lunedì sarà l'unica ad andare in zona arancione. Seguono la provincia autonoma di Trento, il Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda i reparti ordinari di area medica, la maggior occupazione di posti letto per pazienti Covid è rilevata nel Friuli Venezia Giulia, Liguria e Sicilia.